Padre e figlia sul palco, lui al pianoforte, lei al violino. Due inedito alla Filarmonica per i concerti della domenica. Appuntamento numero 4 con questa rassegna che raccoglie sempre il pieno di pubblico. Mario Patuzzi, docente al Conservatorio di Como, e la figlia Maristella hanno affrontato brani di Bloch, Saint-Saëns, Ravel e compositori del primo novecento con rielaborazioni anche originali di temi classici.